Ciao a tutti, questo piccolo video per descrivere brevemente chi è il profiler. Molto spesso si parla di questa professione, soprattutto se siete abituati a vedere le serie televisive da CSI a Criminal Mind. In realtà la professione del profiler è fondamentalmente ambigua nel panorama italiano, così come di fatto lo è anche quella del criminologo, perché di fatto non esiste un albo professionale dei criminologi, quindi ci si affida spesso alla professionalità di base e ai successivi approfondimenti della persona stessa. Viviamo un po' in una sorta di foresta o di luogo abbastanza selvaggio ancora in Italia per quanto riguarda tutto ciò che attiene un po' la criminologia. Il profiler quindi è uno specialista in primis, che si occupa di profili psicologici, di analisi comportamentale, come direbbero quelli dell'FBI. Massimo Picozzi, nel suo libro Profiler del 2016, scrive in realtà che il profiler è un professionista speciale. Vediamo di che cosa si dovrebbe fondamentalmente occupare. Beh, non si può parlare effettivamente di una disciplina, non ci si può dire che siamo degli esperti in una determinata materia se non si conosce un po' la storia. In effetti, chiunque studi criminologia, criminalistica o scienze forense applicati, e in primis anche il profiler, dovrebbe essere un po' esperto di storia dall'antropologia criminale di Lombroso, che potrebbe essere quella un po' più in audio famosa, ma in primis dalla fisiognomica, alla frenologia, all'antropologia e all'antropometria segnaletica, fino alle prime classificazioni, per esempio, di Creschmer e di Sheldon. In realtà, se noi dobbiamo considerare l'attività di profiling, esiste già un primo riferimento in Giulio Cesale di Shakespeare, che diceva, quel cassio ha un aspetto magro e famelico, pensa troppo, dirado sorride. Tali uomini sono pericolosi, non hanno mai l'animo tranquillo. Ma esempi suggestivi ne possiamo avere davvero tanti anche nella vita quotidiana. In realtà facciamo sempre attività di profiling nel momento in cui ci interfacciamo con le altre persone, facciamo una sorta di scansione comportamentale o analisi, se vogliamo, della persona stessa. Stavolta ci assecchiamo, altre volte no, è un altro discorso, però anche i bambini piccoli fanno attività di profiling. Mia figlia Greta, a 7 anni, diceva, papà, tu sei molto fisico e deciso, ogni tanto quando fai quegli occhi così fai un po' paura. Questo potrebbe essere anche un esempio simpatico di attività di profiling nei bambini. Da un punto di vista storico, se vogliamo, il primo classico esempio di affermazione del profiling è il caso di Matt Bomber. Quando poi nel 57, attraverso un'attività vera e propria di profiling, venne arrestato George Meteschi. E venne arrestato proprio grazie al profilo di un profiler a Bruxelles. L'attentatore, un maschio, scriveva, storicamente i dinamitardi sono maschi, egli ha motivi di rivendicazione nei confronti dell'azienda con Edison, crede di essere stato danneggiato dalla compagnia ed è in cerca di vendetta, attraverso l'analisi delle lettere minatorie. L'attentatore è un classico esempio di paranoide. Ha circa 50 anni, poiché la paranoia ha un esodio compreso tra i 35, intorno ai 35 anni, ed egli è attivo da circa 16 anni, quindi è un calcolo, diciamo, matematico. L'attentatore è ben curato, meticoloso, vorrebbe in credere, è ipersensibile alla critica, è sufficientemente istruito, ha un irrisolto complesso ed ipico, ma questa cosa oggi, diciamo, fa un po' sorridere, sebbene possa essere suggestiva a un irrisolto complesso ed ipico. Il profiler lo dice per l'analisi della forma fallica degli ordigni e della forma della lettera W curvata che evoca i seni femminili, quindi queste sono sicuramente osservazioni di natura psicoanalitica che oggi parebbero storcere il naso sicuramente a molti operatori di polizia. Quando lo catturete, vestirà sicuramente in maniera elegante, probabilmente in doppio petto. Infatti, se qualcuno di voi conosce una foto abbastanza storica di questo personaggio, era vestito proprio in questa maniera, elegantemente, durante la sua cattura. Le attività di profiling sicuramente partono però in maniera più strutturata dal 1970 quando l'FBI crea il programma di profilo criminale e nasce il centro di psicologia criminale applicata. Nel 72 nasce la famosa BSU, poi nel 76 Douglas e Ressler studiano i serial killer. Nel 1992 esce un volume molto importante che è il Crime Classification Manual. Dal punto di vista della situazione italiana possiamo segnalare sicuramente, sebbene non se ne parli poi tantissimo, almeno nella cronaca, nel 1995 la nascita appunto in Italia dell'UACV, Unità Analisi del Crimine Violento. Attività di profiling, come accennevamo in precedenza, ce ne sono tantissime sin dalla storia. Come non considerare, per esempio, il Malleus Maleficarum, il mantello delle streghe, che nel 1554, ad esempio, in una sezione specifica, parlava addirittura di come identificarle le streghe e di come procedere agli interrogatori. Questo sempre per fare dei riferimenti storici abbastanza suggestivi. In realtà, quando si parla di profiling, spesso possiamo trovare altri e diversi sinonimi, se vogliamo, altra terminologia, dal criminal profiling appunto al behavior profiling, al forensic profiling, al psychological profiling. L'assunto di base fondamentale del profiling è che l'offender, ma questo, qualsiasi persona, qualsiasi individuo, durante l'esecuzione di una datazione, in questo caso del crimine, esibisce un certo tipo di comportamento, un modello. Il modello del comportamento lascia delle tracce. Quello che noi facciamo quando ci comportiamo banalmente in situazioni più variegate, anche la mattina quando ci alziamo, esibiamo un modello di comportamento, c'è chi si, o quando per esempio andiamo a dormire, i famosi rituali, diciamo, sono dei modelli di comportamento. L'individuazione e lo studio di questo modello permette di inferire alcune caratteristiche biopsicologiche dell'autore del crimine. Successivamente, da una lista di sospetti, si andranno a pescare, a cercare quelle persone che hanno quelle caratteristiche. L'attività di profiling non è una magia, come si vede nei film. Si deve sempre partire da una suspect list. E quindi l'attività di profiling è di supporto all'investigazione. Chiaramente, elementi per fare un profilo psicologico vanno dall'età, al genere, alla razza, alle abitudini di lavoro, alla residenza, all'intelligenza, ai risultati scolastici, all'ambiente lavorativo, all'adattamento sessuale, alle caratteristiche del mezzo di trasporto, fino al movente, eccetera, eccetera. Quindi è un elenco di caratteristiche molto specifiche. L'attività di profiling mi piace definirla anche come una sorta di attività di intelligence. Il profiler, quindi, deve essere un esperto in psicologia, in psichiatria, in analisi comportamentale, sicuramente, perché deve anche comprendere quella che è la psicologia dell'azione criminale. deve essere anche un esperto di scena del crimine, dove per scena del crimine intendiamo un qualsiasi luogo in cui è avvenuto almeno un fatto criminoso, in un certo spazio, quindi in un certo tempo, e dove si possono trovare anche diversi attori coinvolti, spinti almeno da una motivazione. È molto importante, quindi, analizzare e saper analizzare la scena del crimine. In Italia, in realtà, non esiste nessuna persona civile che può, diciamo, occuparsi di analisi della scena del crimine, a meno che non si tratta di esperti, ovviamente, delle forze di polizia. Quindi, un profiler deve essere, in ogni caso, esperto di scena del crimine. Un profiler deve essere anche esperto di comunicazione strategica, perché la deve applicare, ovviamente, pensiamo agli interrogatori o anche ai testimoni, e quindi deve procedere in maniera strategica per ricavare tutta una serie di informazioni. Qui esistono poi riferimenti a tante tecniche di interrogatorio, da quelle classiche, che è bene, insomma, oggi lasciar perdere, a quelle moderne, che appunto considerano la comunicazione come un processo strategico molto, molto importante. Qui fanno riferimento, oltre a tecniche, anche tecnologie o metodologie avanzate, per esempio, dell'analisi, mi riferisco all'analisi dell'espressione del viso, quindi al sistema FACS, no? Per il riconoscimento, la codifica e la decodifica delle espressioni emotive del viso, fino a altre apparecchiature, diciamo, di una certa rilevanza, e sebbene in Italia non se ne possano usare, mi riferisco, per esempio, a quella conosciuta volgarmente come macchina della verità, ovvero il poligrafo. Deve essere anche un esperto di processi cognitivi, ovvero deve essere anche uno studioso, diciamo, di psicologia cognitiva, perché deve comprendere, per esempio, bene come funziona la memoria e quali sono i tranelli della memoria. Quindi il settore ulteriore di studio deve essere quello che riguarda la psicologia della testimonianza. Attualmente mi sento anche di specificare che il profiler dovrebbe anche essere un sufficiente conoscitore di quelli che sono i moderni crimini tecnologici. Mi riferisco, per esempio, ai crimini informatici e quindi sostanzialmente a tutti i crimini informatici che, per esempio, nel Crime Classification Manual vengono precisati in base a se il computer è bersaglio o l'attività criminale che si può compiere con il computer, se l'utente è bersaglio e quindi le varie minacce, il cybercrime e tutto ciò che ruota intorno a fenomeni, per esempio, come è lo stalking, il cyberstalking, il white collar crime, i gruppi estremisti, le sette sataniche, la pedopornografia online e tutta una serie di altri crimini molto, molto particolari. Sicuramente, quindi, deve avere una buona conoscenza anche della tecnologia, soprattutto oggi. Deve essere un esperto anche di vittima, in che senso? Deve conoscere quella parte della tecnologia che si chiama appunto vittimologia, conoscendo anche di fatto tutta una serie di differenze sottili tra le varie tipologie di vittime, fino anche ad avere delle conoscenze delle cosiddette morti sospette equivocale di it, quando, ad esempio, non si sa se si tratta effettivamente di un omicidio o di un suicidio. Qui vi sono dei riferimenti, ad esempio, all'utilizzo, sebbene non se ne parli molto, dell'autopsia psicologica. Infine, ritengo che il profiling debba essere anche un esperto di un altro settore, che è il settore della sicurezza. Il settore della sicurezza, che viene spesso anche trascurato dai moderni, diciamo, profiling, il profiler, perché il profiler in realtà deve far vivere la gente senza preoccupazioni sereni, deve cercare di, diciamo, innestare una sorta di forma mentis legata appunto all'attenzione e alla sicurezza e alla conoscenza e alla gestione della paura, senza che appunto la paura possa condizionare ulteriormente le persone. Infine, per concludere questa piccola introduzione a chi è il profiler, a che cosa fa, ritengo di fondamentale importanza una conoscenza, un'esplorazione personale, perché, come diceva Miller, la conoscenza del crimine parte dalla conoscenza di noi stessi. Grazie e a presto.